Nel momento in cui un problema è risolto si fa sempre un rapporto, parlate con le forze di polizia, parlate con i pompieri, parlate con il pronto soccorso, parlate con i subacquei, parlate con chi vi pare, dopo che il problema è stato affrontato, risolto o non risolto, si fa sempre un rapporto, si analizza e si vede se le procedure sono da cambiare. Questo bisogna farlo sempre. Ora vado a vedere i resoconti. Allora il primo che me l'ha mandato è Marco, bravissimo. Allora scrive, ho imparato ad essere presente mentalmente al mio massimo, subito dopo l'imbocca al lupo. Bene, ora voi non conoscete Marco, ma lui è un artista, ok? Anche conoscendo ma questo conta poco. È un artista, un musicista. Vive di passioni, di emozioni, di colori, di suoni, di bellezza, di cultura. Tenere da una parte le emozioni e essere razionale e presente non è una dote che gli appartiene di istinto. Ci ha dovuto lavorare, eppure molto, eppure l'ultima lezione prima di che una gara, l'ennesima raccomandazione, perché non è una dote che gli appartiene. Ora, che lavoro deve fare Marco per consolidare quello che lui ha imparato? Deve fare lavori di stress, abituarsi allo stress. Inventati quello che ti serve per abituarti allo stress. Ti puoi scommettere una cena ogni volta che fai uno sparring, puoi fare tu in ginocchio e uno in piedi che ti dà calcio e pugni, metterti all'angolo e uno ti colpisce. Trova il modo, ma devi crearti quella tentazione di passione e devi abituarti a mantenerti focalizzato. Cioè tenere la mente sull'obiettivo e non farla deviare. Perché le azioni e le decisioni che noi prendiamo nella vita, legate alle passioni, che siano odio ma che siano amore, purtroppo non sono quelle migliori per noi. E' un po' forte, ma è così. Soprattutto se siamo combattenti. Ok? Cioè non dovremo, ora per dire una cosa sul bene, se no vi sconvolcete, non dovremo fare del bene perché ci conviene, no? Dovremmo fare del bene perché ci viene dal cuore. Beh, se tu capisci che è un bene per te e per l'altro, ha ancora più valore, perché non è istintivo. Tu capisci che è una cosa giusta. Ok? Quindi questa fissa di fare del bene dal cuore, sì. Ma se tu non pensi che vai all'inferno, ma lo fai perché capisci che è una cosa giusta per una società, ha ancora più valore. Levando questo, il combattimento è una cosa un po' più diversa, però dobbiamo essere bravi a staccarci dall'emozione. Ho imparato a mettere in pratica i suggerimenti dell'angolo, ma perché non l'ha imparato a mettere in pratica? È che ha imparato a essere presente mentalmente, a non avere le passioni. Cioè ha imparato a essere razionale. Cioè gli veniva dato qualche suggerimento e lui lo metteva in pratica. Non combatteva alla cieca. Ok? Tu prova uno arrabbiato che sta facendo a botta, dagli dei suggerimenti tecnici, non ti ascolterà mai. Però non l'hai imparato. In realtà questo comportamento è figlio di quello che dicevamo prima. Quindi devi cercare di aumentare lo stress quando combatti e che diventi un'abitudine. Vuoi imparare a combattere e vincere nel sandà? Sono Danilo Capuzzi, il presidente della famosa Otsuka Club. Ho vissuto per 26 anni dentro la mia palestra, perché volevo diventare il migliore nella mia disciplina. Sono conosciuto infatti per aver vinto 106 incontri e per essere quindi l'atleta più titolato in Italia nel sandà a contatto pieno. Vuoi sapere come ho fatto? Unisciti ai miei studenti. Fai una lezione gratis con me. Datti questa opportunità. Clicca il link che trovi in descrizione.